Ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo quinto episodio di Among Us Oggi siamo in compagna di Sofia, Rikes e Federico Abbiamo messo 10 persone e 2 impostori, penso che faremo una o due partite Vediamo iniziata la prima partita Impostore insieme a Rikes Ovviamente una persona acquittata, quindi siamo in 9 Allora, c'è Sof, quest'altro qui Non seguono, oh tutti a destra stanno Potremmo fare anche una doppia, allora Mr. Dead No però poi Sof capisce L'ho ucciso, eh forse ho sbagliato Oddio una doppia, ok perfetto Bascondiamoci, anzi ok Chi l'ha trovato? Io, no aspetta no Mr. Dead, eravamo io e Mr. Dead L'ho cliccato prima lui Ah e dove? Dove? E' in O2 Dove eravate? In admin Io so le storage Ok Però, votare, cioè no, dobbiamo votare per forza Perché comunque siamo in 6 Chi? Perché l'ho visto venire da sinistra Baga Però Sobra Baga? Sì Comunque hanno fatto una doppia e un acquittato Vediamo a baga Dai, ok Vediamo un po' E non è lui E non è lui No Ok, però la X che ha dato l'emergenza Dai Ma saremo una trafede E Sof Per divertirci No, no, no mazzare Non mazzare Ok Perfetto Bella partita Facciamo un'altra Seconda partita Ancora impostore Adesso Insieme a Sof Una è uscito Comunque Nella partita di prima Ho fatto una kill Poi quell'altra soffia Quindi due E una Rikes Cioè due hanno acquittato Per nostra sfortuna Allora Un'altra acquittato Di nuovo Siamo in 4 qua Potrei anche farlo No, no Anche perché poi c'è Fede Che capisce tutto Allora, allora Posso uccidere Event E poi ritorno Gli storage Casomai C'è nessuno qui Perché ha dato l'emergenza Non lo so Il black ha avventato Ma È vero Ma che cosa dice Ecco Beccato Ma no No, facciamo così Allora 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 O è nero O è nero e giallo Oh no Cioè no Allora Io ci ho visto Però No, non ha fatto niente Non so se Se no Buttiamo prima Fuori Allora Allora Buttiamo fuori Il giallo Sì Allora Se non è il giallo Buttiamo fuori De Va bene E come Ho capito Funziona così Perché Ho menti De Ho menti Lui Va bene Vediamo 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 Uh Farità Farità Quindi si continua Non so per quale motivo Il giallo abbia detto Che È fede Che ha inventato Vabbè Comunque Potrei farlo Non lo so Non lo so Non so Allora Si potrebbe dare Anche un'emergenza Non me lo fa Non me lo fa No Ha quitato Così Ha chiuso la porta Ok Lei Voi l'ha ucciso Non lo so No Dissimi che non ho sbagliato Ok Vent Eh non ti volevo Chi l'ha trovato Vado Io L'ho trovato di fronte a Electrical Io stavo in upper Posso Posso accusare Sofia No L'ho trovato di fronte a lei Perché io Stavo in story Ah Ho visto Sofia Che ha fatto Un passo per andarsene E poi Un passo subito Ma non è vero Posso dire una cosa Avevamo Aspetta Avevamo detto Che comunque Potevamo buttare fuori Fede Visto che Eh infatti E poi accusa a casa Però aspettate Io stavo in upper Rikes che hai detto Dite Vabbè votatemi Se non sono io Votate Sofia Se non siete E' finita Si parlite Eh ma Io volevo anche dire Che Stavo Andando verso Navigation Se non sbaglio E ho visto Federico Non so se abbia Appunto Preso l'evente E sia uscito da lì Oppure Vabbè Allora votiamo Federico Dai Non rinno Eh ok Un chido Vabbè Tutti Votate Sofia Beh se non è Federico Votiamo Sofia Eh il fatto è che Se ipotizzando Non fosse Federico Manca una kill No Non ci credo Eh vabbè Non ci credo Hanno vinto Vittoria Sofia ha ucciso Rikes Alla fine Comunque In questa partita Ho fatto tutto io Sofia ha ucciso Solamente Rikes Alla fine Ma a parte questo Se non fosse stato Per il giallo Che ha detto Che Federico Ha ventato Non penso avremmo vinto No Non è possibile Non è possibile Tre volte di fila Perché ha dato l'emergenza Nel bianco Non lo so Vediamo Schifiamo subito Schifiamo subito Schifiamo subito C'è il bianco Che ha chiesto Di allearsi con qualcuno E il bianco Ha detto ok Quindi Che facciamo Schifiamo dai Schifiamo Magari Io ho schifato Schifato Allora purtroppo Ha acquittato una persona E niente Da sinistra Poi ritorno a destra Ancari Niente niente C'è qualcuno qua No Erano previste due partite Però vabbè Sono state Tre minuti Due minuti Sono durate E le prime due Quindi se ne farà un'altra Forse anche una quarta Dipende ovviamente Da quanto durerà questa Allora Potrei killarlo No Però sono da solo qui La ritorno Di nuovo questo Schifiamo tanto Anzi no Lo butto fuori Non ha niente da dire Perché gli unici due Hanno acquittato Non sono morti Quindi ho buttato fuori Ma ha detto che ha Asteroidi Se non sbaglio Quindi Se qualcuno appunto Poteva andare a Ma non sono visibili Le tasche Ma qual è serve Infatti Buttiamolo fuori Buttiamolo fuori Ok adesso Verò frappi i coglioni Ho dato l'emergenza Allora Sono andato Alla parte Sbagliata Giù Armin Potrei farlo Potrei Chillare Rites Sta facendo lui Sopra Sopra Oddio Non ci sta andando nessuno Quanto manca 10 secondi Eh La faranno sicura Ok L'ha fatta MLN Ora mi hanno stancato Veramente Cosa vuole Comunque siamo andati Tutti in admin Se non siamo andati Lo scan Stavo aspettando Che qualcuno Ma non Non sono visibili Ah Ti aspetto Ti aspetto Allora io ho skippato Poi voi avete votato Anais Vero Sì Lei ovviamente Aspettiamo 40 secondi Per lei Che è andato così L'emergenza a caso Vabbè L'hanno buttato fuori Anais Ma no A me è un po' brutta Una partita vinta così Vabbè Reactor Ali non farà mai Una kill Lo so Vabbè Aspetto Ali Sparo l'uccido Faccio sopra No però fa soffa E Uccidelo 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 Perfetto Tre volte di fila impostore Abbiamo vinto Allora ne facciamo un'altra Comunque se voi non aveste Buttato fuori Quei due Forse avreste vinto Forse Vabbè Tu Ho detto che era il giallo Tu l'hai detto che era il giallo Però non l'ho votato Quindi sono un coglione Adesso quarta E l'ultima partita Non sarò mai impostore Meglio Meglio Basta Tre volte No Due hanno quittato Proprio nel momento in cui sono Green Mate Due quittano Così avrò meno sospetti Vabbè Allora Spero non sia fede Io sono un elettrico Alla fare le tasche Comunque No Un altro acquittato Allora Fili Non è dei fili Però va bene Allora Non riesco a farla Perfetto Ok Soft Questa qua Tiro su E via No Young Rikes Oddio Via 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 Da sinistra Poi vengo Da destra Ok Non mi ha seguito Benzina Ghost Sospetto un po' in Rikes Da questi primi secondi Poi forse Soft è salvo Entrato Ha fatto la testa La tasca è veloce Quella che devi Tirare su Quindi potrebbe essere salvo Ma Il giallo qua Vabbè Comunque Admin Ma Chi abbiamo Le stesse tasche Vabbè Comunque Fatta Ok Io ho quasi finito le tasche Ne manca una In realtà Sono due Perché poi devo scendere A fare quella sotto Dai Che potremmo anche vincere Con le tasche In questa partita Ah Mi mancava Fra le tasche Dopo tre partite Impostore consecutive Ma Un'altra volta Ma che prima L'ho fatto male Boh Non ne ho idea Ma Secondo verrà L'hanno fatto una kill Non lo so Ma basta Ma quante Quante sono le tasche Ok Ma ok Fede che non lo vedevo Ma un momento Pure io Alle telecamere Vediamo un po' Oh Oh Sof Oh Sof Che cosa Vuoi dirmi Ma Ma Sofìa Vuoi dirci qualcosa Dalle telecamere No 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 Io sto Andando la tasca Quella lunga Trattura Non ci interessa Non ci interessa Vogliamo Sofia Perché l'ha ucciso Dalle telecamere Grazie Dalle telecamere? Ti ho visto Dalle telecamere Che l'uccidevi Che l'uccidevi Guarda che soffia Se ne è andata Possiamo andare A fare la tasca Dell'elettricità Secondo voi In realtà Secondo me Chi può essere Altro impostore? Uno tra Rex e Federico? Non lo so Può darsi anche Chi sia Rex Le porte si chiudono Ok Per sicurezza Sto con Ghost Che Mi sembra Forse il più bravo Tra tutti Se ne è rendita la corrente Non so Cosa andrò io a controllare Cioè magari Passo un secondo Oh Oh no Ma sarebbe Scemo Di uccidermi Se mi uccidesse Sarebbe veramente scemo Scusa ma Non potrebbero finire Le tasche Così Subito Emergenza Oden admin Che è l'Aix La deve fare lui Ok l'ha fatta Qua Fede Dove deve farla Eh Ora la farà Sicuramente Per chi mi ha visto Io me ne vado Oh Ma Ma Ora direi Non riusciva a cliccare Vabbè Allora Non riescono a finire le tasche Comunque La Fede Casualità In tutta la partita Si sono chiuse le porte Proprio dove ero io Cioè Scusate Proprio dove c'era lui Vabbè Allora Ah è vero Anche l'altro impostore Comunque le sta chiudendo Eh Si capisce Visto che non è uscito Tratta Sofia Vabbè Allora Dobbiamo andare In reactor A fare le tasche Dell'emergenza Giù Ok Fede perché Allora l'emergenza Di preciso Perché Mi sembra strano Che Ghost Il nero Non abbiamo fatto una tasca Si è fermato È vero Si è fermato Proprio Certe volte Quando si chiudono le porte No no Aspetta Aspetta Casualità Ogni volta Che si sono chiuse le porte Da me C'è l'idea accanto a me Quindi non so Oh Chi era Era Ghost Era Ghost Sì perché Non si è mai fermato Mai fermato Anche io il sospetto è lui Comunque un'acquittura Quando eravamo in electrical In un momento appunto In cui c'erano le luci spente Eravamo io Lui Io Me stesso Devo dire la verità Aspetta Lui Ghost E poi c'erano io e Fede Se non sbaglio E ha chiuso le porte E con me e Ghost E praticamente Eh Allora calcolate che Federico Non è mai capitato Impostore A differenza di Mera Ex e Sofia Comunque a parte questo Il video sta per concludersi Abbiamo fatto Belle quattro partite Le belle quattro partite Purtroppo alla fine Uno è uscito Ma vabbè Io Dopo mi ha fatto Nel sospetto Federico Di Ghost Perché mi ha fatto Pensare al fatto Che lui non si sia mai fermato E' sempre stato in movimento Vabbè Comunque spero che questo video Vi sia piaciuto Se così fosse stato Lasciate un mi piace Io vi ringrazio per la visione Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella Grazie a tutti